Ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qui con il nostro MKDons su FIFA 21. Allora, dopo l'episodio precedente veramente meraviglioso, ci apprestiamo ad affrontare il Brighton e il Liverpool. Col Brighton è fattibile, sta a 18esimi, quindi si può fa' Mentre col Liverpool sarà un pochino più difficile. Oggi spazio a Hoffman che sta giocando un gran bene ultimamente e non dargli spazio sarebbe un crimine. Quindi assolutamente Hoffman, titolare, assolutamente sì. Si parte dai. Bravo Hoffman, subito sulla linea della palla. Questa è una cosa ribattuta. Gara tutta da seguire questa. Vedremo come l'affronteranno le due squadre se sceglieranno di attare un approccio più prudente, almeno all'inizio, se una delle due squadre prenderà subito in mano il pallino del gioco. Sono curioso. Hoffman. Coziello. Per Hoffman, fuori gioco, fuori gioco. Eh, l'avevo visto che era lì per lì per essere in fuori gioco. Però era l'unico passaggio che potevo fare, quindi ho dovuto provare lo stesso. Douglas. Bravo Douglas. Bravo Douglas. Fino in fondo Douglas, fino in fondo. Pallone invitante. Ma cagliocco da fuori. No. Ma cos'ha parato? Cos'ha parato? Tiro fantastico. Peccato, perché era molto bello. Mi ricordava molto Pocba. Contro il Portogallo. Eh sì, Hoffman di testa. È bravo ad anticipare Hoffman, ma di testa non è molto alto. sa che non la risolva proprio lui con una giocata, con un guizzo, da tenere sicuramente d'occhio a questo giocatore. Qui va lì. Hoffman. No, Douglas. Vedremo se le cose andranno diversamente oggi. Emre Can. Attenzione. Bravissimo. Rudiger. Don'taniga. Laird. Laird. Da solo. Laird. Lo tiene però. Ancora Laird. Calcio d'angolo. Calma, ragazzi. Douglas. Au. Niente. Nessuno riesce ad arrivarci su questa palla. Riparte il Brighton. Attenzione, novità. Andiamo subito al King Power Stadium. Prima rete della partita per Leverton. Si sblocca dunque il match. Uno a zero quando se ne è andato il primo quarto d'ora. Grazie per l'aggiornamento. Puntuale, come sempre. Atenti. Siamo troppo esposti con Kelly. Troppo in avanti. No, no, no. Mamma mia. Cosa ha fatto qui? Mamma mia. Bravo Middleton. Bravo Middleton. Buona parata questa. Buona parata. Pazzesco. Cazziello tua. No, Middleton. Perché lì? Ma stringi sta palla. Prendila. Non forse da scappare. Laird. Hoffman. Hoffman. Incredibile cosa si sono mangiati. Hoffman. Cozziello. Occhio al suo movimento. Dagras. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Perché Cozziello non segue l'azione? Palla in out. Cozziello. Ci sarà rimessa con le mani. Ci aspettavo per fare un gol sicuro. Può più usare da lì. Mi è paccato così. No, raga, no. Bene qui il difensore. Sti passaggi così no, eh. Non va per niente bene. Laird, è tuo. Non farlo scappare. Bravo. Bravissimo. Sì, però. Non la riga. Eh, siamo poco precisi, eh. Oddio. Ho avuto paura che fosse rigore per un attimo. Ho avuto una paura atroce. Fraser. Hoffman. Bravo Hoffman. Fulibali. Cozziello. Dagras. Cozziello. Hoffman. Fraser. Ancora Hoffman. No, peccato. Era bella questa azione. Molto bella. Molto bella in questa vita. Peccato che all'ultimo ce l'ha infregata. Cozziello. Per Douglas. Douglas Costa. Potrebbe grossare. Ser Hoffman. L'idea anticipato. Serra a calcio d'angolo. Per Douglas. Baccaio con di testa. L'istinto del portiere. Il portiere para. Il portiere para. Però ci siamo. Stiamo giocando un gran bene. Poche occasioni da rete da una parte e dall'altra. Zero a zero che non fa una piega. Devono usare qualcosina di più se vogliono sbloccarla. E cambiare l'inerzia. Non fallo scappare Rudiger. Bravo. Cercano di aprire la difesa avversaria. Calma. Calma. Mamma mia Rudiger. Non l'ha chiuso bene qua. Non l'ha chiuso bene. Abbiamo davvero rischiato tanto. Middleton. Comunque questo Brighton giocava molto bene in realtà. 18 esi o ma tanta roba. Cioè giocava benissimo. Non so cosa dire. Cioè non riusciamo veramente a fare il nostro gioco. L'azione sfuma qui. Palla nuovamente agli avversari. Hoffman da solo. Avanza verso la porta. Il tempo passa. È già scoperto da un pezzo. C'è spazio per il cross. Eh sì Hoffman però. Mamma mia. Mamma mia Hoffman. Il primo tempo di Hoffman. Un po' così eh. Un po' così. Diciamo che forse tende a dare in meglio quando entra. Durante la partita più che quando parte dall'inizio eh. Forse sì. Forse sì. Non è uno che. Che deve partire dall'inizio. O forse non è neanche la sua partita può anche essere. D'Agras. Koulibaly. L'avevi visto. L'avevi visto. L'avevi visto. Emre Can. E pure i giochetti fanno questi. Hoffman. E D'Agras. Ah. Volevo tirare subito con Godaniga ma non c'è arrivato. Un altro ottimo passaggio. Ancora un passaggio perfetto. Godaniga. È tua eh. Grazie. Mi hai ripassata così. Hoffman. Fuori gioco. Oggi non riesco a capire i movimenti. Non riesco proprio. Stiamo giocando molto male. No dove vai? Bravo Rudiger. Che mo' sei un po' abituato a questa squadra, a questo gioco e... Si vede il campione che è eh. Si vede. Cozziello. L'hai visto? Baglas. Niente. Sempre l'anticipo. Sono sempre sul pezzo gli avversari. Ancora Douglas. Baccaio Co. Non ci arriva nessuno. C'è Godaniga di testa che non è proprio la sua... Questa è una cosa migliore. Douglas... Per chi? La spazza via. Non si sa. No, Freezer. Devo fare dei cambi. Devo fare dei cambi. Sennò qua non usciamo. Daglas. Interessante la verticalizzazione qui. Attenzione occasione. No. Ma. Un'azione spettacolare. Buttata in questo modo. È la prima vera occasione da gol che abbiamo avuto comunque. Allora. Pellegri. Poi chi metto? Eh bella domanda. Kasumu per Fraser. È al momento. Basta. Basta ragazzi. Mettiamo questi. Pellegri. Pellegri mio. Ti prego. Salvaci. Haller. Bravo Layard. Kasumu. Otteniga. Layard. Può andare. Layard. Peppellegri. Ah Cozziello. Non ci arriva per pochissimo. Riparte Brighton. Possono ripartire in contropiere. Ripartenza bloccata da un buon intervento rifensivo. Peppellegri. Cozziello. Palla consegnata agli avversari. Sempre l'ultimo passaggio ci manca. Sempre l'ultimo passaggio. Alexis. Attenzione novità. Andiamo subito al King Power Stadium. Bravo Cozziello. Seconda rete della partita per Leverton. Ancora Cozziello. Conteggio che ora è sul 2-0 al 74esimo. Peppellegri. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Per Kasumu. Che palla. Kasumu. Mani mortacci tua. Come cavolo fai? Come fai? Ha sbagliato due gol di fila. Nella sensazione. E' due gol fatti facili facili. Non possono permettersi di concedere occasioni simili. Mamma mia. Cioè veramente. Errore veramente da principiante di Kasumu. Eh. Errore raccio. Fuori gioco. Era fuori gioco no? 600 secondi da giocare ancora. Dai Peppellegri. Per Kasumu. Godaniga. Ma va. Sto fuori gioco mai detto. Haller. Haller. Bravo. Pellegri. Sì però. Ragazzi. Passaggi. Passaggi. E' in buona posizione. Sono molto importanti. Buona rituizione qui. E' arrivato il gol che può decidere la gara. Non ci credo. Io sono senza parole. Sono senza parole. Senza dubbio tagliato le gambe. La squadra avversaria. Sono senza parole. Partita imbarazzante. Partita imbarazzante. Ho capito. Posso saltare. Grazie. Un gol che sembra veramente una doccia fredda per la squadra che l'ha subito. Non è giusto. Non è giusto. Un momento di disattenzione. Purtroppo mi costerà molto. Molto caro. Bakayoko. Ultimo risperato assalto nel tentativo di pareggiare. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. Bella palla. Non è finita. Non è finita. Sì, però anche Pellegri se sbaglia io non so cosa fare. Se anche Pellegri sbaglia c'è una cosa che non va oggi. Alexis. Ultima zè. Perdono il pallone. Douglas Costa. Ti prego. Niente. Ottima chiusura difensiva. Situazione che era complicata. Sì, vabbè. Però partita. Cioè, persa. Ingiustamente, secondo me. Ingiustamente. Potevamo vincerla questa, tranquillamente. Cinque tiri a sei. No, è stata anche equilibrata nel complesso. Però la sconfitta non penso che sia giusto, ecco. Come risultato. Non ce la meritavamo. C'è stato bello finché è durato. Purtroppo. No, è sfortuna. È sfortuna. Nessuno meritava di vincere. Nessuno, in realtà. Il nostro morale è alto. E dai, ci sta una sconfitta di tanto, eh. Ci può sta. Non è che siamo tutti perfetti. E... Continua così. Non è che abbia giocato tanto bene Hoffman, eh. Sinceramente. Yukton, ancora. Ancora tu. Vai, vai. Sarà la ventesima volta che dico vai. E sei ancora lì che... Che pressi. Con queste offerte. Di trasferimento. Eh, adesso siamo ottavi. Allora, Surman. Eh, a questo punto Surman... Mi sa tanto che... Allora, mi sa tanto che... Lo mandiamo via, eh. Dispiace. Ma dobbiamo veramente fare il salto di qualità. Non possiamo aspettare... Che vada in pensione lui. Allora, siamo un po' preoccupati. Ma... Ma perché ogni volta Frese mi dice queste puttanate? Ogni volta che perdiamo una partita? Cioè, siamo neopromossi. Ogni volta parla di queste cose. Cioè, ogni forma... Una pottuta volta. Ma perché? Eh, comunque contro il Liverpool si fa dura, eh. Molto dura. Però... Ci proveremo sicuramente. Visto che... Abbiamo battuto il Chelsea. L'Arsenal, che ok. Non era una migliore squadra possibile. Però... Però... Secondo me possiamo fare il colpaccio. Dai, Esu. Soprendiamoci. L'Arsenal. Anche per questa partita... L'Arsenal. Eh, però L'Arsenal si fa così. Questo è quanto la veloce? Mamma mia, quanto vai? Rudiger. Frazer, dai. Per gol da niga. Dai. Calci d'angolo. Dai, la scosta. Per Pietro Pellegri, che per poco... Non la butta dentro. Eh, Pellegri è mancato. Pellegri è mancato. Su. Lo vediamo fin da subito. Che Pellegri è mancato. Come gioca Liverpool comunque. È incredibile, ragazzi. Buono il cross. Attento il difensore che allontana. Cocchi. Mette in movimento Salah. Fabinho. Palla interessante. Il tuffo che evita i gol. Mamma mia. Middleton ci salva. Ci tiene a galla. Non so come. Non so come. Veramente. Crossa nel mezzo. Grau Gazziello. È comunque tosta questa partita. È veramente tosta. Baccaioco. Pellegri. 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 Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. No. Ho visto da la scosta messo in... Perfettamente. Perfettamente. Infatti era pronto per buttare le rete con cattiveria. Ho visto lì. Pronto. Per metterla dentro. Ma niente. Si sblocca dunque il mezzo. Uno a zero. Può metterla da lì. Bravo Leird. Fraser. Magari ecco. Cozziello. Byglass. 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 Pellegri. Bravo Pellegri. Dai ragazzi andate su. Alessandro Arnold. Ci metta un po' di cattiveria. Su. Non fa male la cattiveria. Dai a fuori bene qui la difesa con lancio lungo. Bravo Rudiger. Buona qui la lettura del difensore. Ma che è qui. Ma calma. Calma. Non mica. Spazio. Grande league. Oh ma che è oggi? Ma che è? Che davanti alla porta mi manino tutti questi gol. Ma che è? Palla molto interessante. Pareco. Ok. Risolve problemi. Grazie. Ti amo Kelly. Ti amo. L'hai salvata. Non so come. Non so come. Douglas. Douglas spingi. Per Pellegri. Niente. C'è Van Dijk. Calcio d'angolo dal quale potrebbe scaturire il vantaggio. Che chiude molto bene. Douglas. Palla messa in mezzo. Per Pellegri. Calcio d'angolo. Ancora Douglas. Ancora Pellegri. Niente. Neanche angolo. Neanche angolo. Nostra. Bravo Douglas. Bravo Douglas. No. Fraser mio però. Ma perché. Adesso chi lo marca. Bravo Rudiger. Sì però. Bravo Kelly. Scott. Per Pellegri. Per Douglas. Spaccala. Anche se non si può. Pazzarone. Era buono il tiro. Era buono. Ottimo intervento. Senza fronzoli. Pellegri. Coziello. Perché lì? Perché lì? Che ti ha detto lì? Se non ho capito male. C'è stato un calcio di rigore in uno degli altri match. Sentiamo lo studio. L'arbitro ha concesso il penalty ai padroni di casa. Il tentativo di trasformazione non è andato a buon fine. Conclusione angolata. Certo che sarà contro Koulibaly. Fa ridere. Il tempo per arrivarci e bloccare. Dai Koulibaly. Bravo Kelly. Kelly oggi monumentale. Monumentale. Si aprono spazi invitanti. Bacchia Deco. Bacchia Deco. Bacchia Deco. Bacchia Deco. C'è spazio per i cross. Buono l'anticipo del difensore. Bravo ancora Bacchia Deco. Che sta a mettere il fritto oggi. Coziello Douglas. Coziello. No. No. No l'avevo visto con la niga. L'avevo visto. Era libero. Lì sulla faccia. Pronto a buttarla dentro. Ma una cattiveria in mane. Ma niente da fare. Niente da fare. 0-0. Partita molto bella. Molto bella. Pareggio è un buon risultato secondo me. Giusto. al momento. Per quello che si è visto in campo. Anche se comunque noi abbiamo rischiato di fare più facilmente gol. Quello è vero. Però di base. Molto equilibrata. Arnold. Prova a sfruttare le corsie. Si affidano una fitta rete di passaggi. Parecco. Protegge bene il pallone. Norma del vantaggio. Può attaccare il Liverpool. No. Questo come la stoppata comunque. lo dobbiamo far là. Ma basta. Bravo Rudiger. Su. Ripartiamo. Ripartiamo. Ancora Rudiger. di questa squadra impegnata in Premier League. Mamma mia. Pellegrini. Coziello. Douglas Costa. Douglas. Per Pellegrini. Ma cos'è sto passaggio? Pellegrini. Più cattivo. Più deciso. Più veloce. Bravo Kelly. Fraser. Pellegrini. Passaggio fantastico. Stava rischiando di fare una roba senza senso. Nostra. Nostra. Chi entra? Chi entra? Esce Pareco. Che si affida forze fresche. Non si sa. Non ce lo fanno capire. Che età. Lair. Oh. Douglas. No. Mi ha detto da fare. Un po' la caccia d'angolo. Douglas. Per Pellegrini. Peccato. Peccato. Dai. 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 Che c'ha facciato. Dai che la portiamo a casa. In qualche modo. Come avrebbe voluto buon lavoro qui del difensore. Ma Kaioko. Cosa. Perché. Che fallo è. Che fallo è. Occhio a Salah. Ossesso gestito Mario a Salah. No. No. Bravo. Bravo Ludic. Partire da la Liga. Partire da la Liga per loro. Come sempre per voi. Su EA Sports. L'hai visto. L'hai visto. Ma come l'hai svirgolata amico mio. Eri da solo. Da solo. Ero sicuro che la buttasse dentro. Ero sicuro. Che male però. Questa cosa qui che male. Coziello. Coziello. No. Cosa ha preso Alisson. Cosa ha preso Alisson. Non riusciamo a segnare. E' una roba indecente. Douglas. Con quello Douglas. Niente. Niente. Non riusciamo a segnare. Non riusciamo. Hoffman vai tu. E chi ci metto? E chi ci metto? E chi ci metto? Basta. Sorensen. Proviamo. Conclusione di testa che non ha impensierito il portiere. Ha preso bene il tempo sull'avversario. Non era comunque facile incorrere dalla porta. Dai Hoffman. Su. Keita. Fatti perdonare Hoffman per la brutta prestazione di prima. Stava sbagliando poco nel possesso palla. Ecco Aubameyang. Co. Che. Bravo Ludiger. Ruvi. Ruvido metti case per recuperare il pallone. Coziello. Douglas. Douglas è incazzato. L'area. Douglas è incazzato. Un celebra bere. Occhio perché è solo. La spazza via con l'intervento davvero tempestivo. Aubameyang. Keita. No. Rudiger. Fabinho. Ah. Un altro ottimo passaggio. Coche. Ha saltato l'avversario con un numero. Numero veramente di alta classe. Bravo Kulipari. La gira su Robertson. Keita. Palla per Aubameyang. Ancora Rudiger. Bravissimo. Hoffman. Hoffman. C'ha provato. È la più riduce. C'ha provato. E' la più riduce. E' la più riduce. Vuole sbloccare la parità. Si getta lì in avanti a cacciare il gol vittoria. Bravo Sorensen. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Coziello. Hoffman. Ancora Coziello. Kulipari. No, no, rega. Ho troppa ansia. Ho troppa ansia. Andiamo a sentire. E' arrivato il terzo gol per il Tottenham. Risultato che ora è sul 3-0 dopo 85 minuti. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Sbragalo, sbragalo. Aubameyang. Mamma mia, mi ha detto. Sempre lui. Sempre lui. Sarà. Calcio d'angolo. Esci, esci. Dai Sorensen, vai. No. Sorensen. Ultima azione, ragazzi. Boldaniga. Per il compagno. Vediamo cosa inventa ora. Non è fallo. E dai. Atto un falcione tra l'altro, Fraser. Fantastico. Che voleva il successo pieno. Eh, 0-0 è un peccato. Meritavamo di più di loro. Meritavano di più. Siamo sinceri. 11 tiri a 3. Li abbiamo distrutti. Peccato che il risultato non parli così. Peccato, peccato. Ciao, hai un minuto per una domanda? Ok. Il calcio è come gli scacchi. Puntiamo a vincere tutte noi. Non è che si punta al pareggio. Cosa vuol dire? Eh, Alisson è un ottimo giocatore. Un campione, Alisson. Su. Niente da dire su questa cosa. Siamo decimi. Siamo ricascati. Eh, è difficile. Fisher. Andy Fisher. Ma col cavolo mi serve ancora? Per almeno qualche mesetto. Finché non trovo il sostituto magari nella primavera. Magari. Allora. No, Surman. Basta con sti stop alle trattative. Beh, la prossima volta vedo già che abbiamo un City selvatico. City e Tottenham. Bene. Cioè, proprio campionato facile, dicevano. Alla faccia del K. Comunque. Vabbè. Velotti, Martial, Pudisic, Cordoba, Pellegri. Tutti a 11 stanno. Comunque. Comunque. Ragazzi. Eh, per oggi è tutto. Noi ci becchiamo. Alla prossima. E ciao. Alla prossima. Grazie.